Sì, io ho fatto in due anni e mezzo una ventina di incontri individuali in cui incontravo le persone nei quartieri tre minuti, tre cinque minuti a testa e quindi ho incontrato quasi settemila persone a cui ho stretto la mano, ho parlato e come diceva prima anche il sindaco di un comune ovviamente più piccolo dove è più facile fare questo perché è un tipo anche di contatto di democrazia diretta, si può fare anche in comuni molto più grandi come Padova, è logico che bisogna dedicare molto tempo e passare delle ore ad ascoltare le gente e andare incontro, cioè non ricevere direttamente in comune ma andare nei quartieri e fare questi ricevimenti, le persone arrivavano, prendevano un bigliettino, si sedevano, aspettavano, io li ricevevo cinque minuti e come si diceva prima i problemi tante volte non sono solamente l'illuminazione pubblica, i marciapiede, la buca per terra, tante volte le persone vengono là per raccontarti anche una loro storia anche solamente per farsi una fotografia assieme.